Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno Maria. Eccomi qui, pronta ad iniziare un nuovo giorno accanto a te. Questo pensiero mi dà forza e tanta gioia. Se tu sei accanto a me, cosa potrà andare male? Se mi proteggi sotto il tuo manto, di cosa dovrai preoccuparmi? Di nulla, Madre mia. Devo solo togliere dalle mie spalle i pesi, le preoccupazioni e il passato e camminare dietro te, mettere i miei piedi sulle tue orme e fidarmi e ritrovare la speranza. Voglio essere luce, Maria. Luce perché vive ancora nelle tenebre. Luce per chi non trova più la speranza. Luce per chi vive accanto a me. Luce per la tua luce che illumina ogni cuore. Buongiorno Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Sapete, cari figli, che quando fa freddo e buio, se le persone vedono fuoco, gli vanno vicino e si riscaldano. Così è per il cristiano, colui che segue Gesù, se davvero egli diviene fuoco, diviene servo degli altri, e gli aiuta a conoscere la vera luce. Per questo, cari figli, mi aspetto da voi, che siate questa fiamma nella notte, che mostrerà agli altri la vera luce.